cosa facciamo oggi arex? te lo stavo chiedere anch'io cosa facciamo boh non lo so mettiamoci dei cappellini ok mi è caduto però ecco aspetta facciamo una challenge si devi provare allora si è messo questa cosa qui bene mi ha fatto venire una grande idea di fare la stessa challenge allora che tu devi camminare e non devi sbattere e non devi toccare niente ok ci provo no io voglio non mi aiutare dai ok ma perché non mi hai aiutato e tu mi hai aiutato di non aiutarti E' beh beh me li metto... allora ti 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 ttti ti 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 otoo orex sei bene? ste bellino? ste benone? sì sto benone qua va bene ma spera no research a te no a te 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 tu te tu te 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 tu te 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 tu te 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 allora mettami si sembra così scontrosa allora qui no non aiutarmi allora poi qui si non aiutarmi poi facciamo Così, così, poi così, poi così, poi così, poi così, poi così, poi così. E poi cadi e ti spacchi la testa. Come ti già lo metteremo, bastatore si spacca la testa.